La Procura della Repubblica dell'Aquila, come era nelle previsioni, ha aperto un'inchiesta sulla tragedia dei due sciatori romani, Massimo Urbani e Massimo Franzè, morti domenica dopo essere stati travolti da una slavina, mentre erano intenti a sciare a Campo Felice, in un fuori pista, nella zona dell'anfiteatro, assieme ad un amico che invece fortunatamente si è salvato. Per ora il pubblico ministero, titolare dell'inchiesta, che è David Mancini, indaga contro i gnoti, ma questo non esclude che prossimamente possano esserci anche degli iscritti nel registro degli indagati. Al vaio del magistrato c'è ovviamente un'informativa consegnata dai carabinieri della stazione di Rocca di Mezzo e la testimonianza del supestite, che è ancora ricoverato all'ospedale San Salvatore del Capoluogo. L'uomo ha raccontato che lui e i suoi compagni, prima della tragedia, erano stati preceduti da uno snowboardista e che avevano deciso di percorrere lo stesso il tragitto. L'autopsia sugli esciatori, effettuata all'Aquila, ha stabilito che la causa dei decessi sono i traumi riportati nello schianto con gli alberi nel bosco, non il soffocamento causato dalla slavina che li ha ricoperti. Il riferimento alle condizioni invece del sopravvissuto è ancora in prognosi riservata, anche se ci sono lievi miglioramenti. L'uomo è vigile, ma è stato di sciocco ovviamente nel reparto di chirurgia. L'uomo è stato di sciocco ovviamente nel reparto di chirurgia.